amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp oggi come vi avevo promesso settimana scorsa parliamo di esche ed in particolare di mtc baits ma prima sigla amici come vi avevo anticipato la settimana scorsa nel video precedente che vi metto poi qui sotto in descrizione oggi voglio parlarvi di un'azienda olandese di matrice inglese che si chiama mtc baits è una nuova e prestigiosa linea di esche anzi e di ingredienti di altissima qualità e sono in grado di soddisfare anche i carpisti più esigenti sia da un punto di vista di ready mates che sono le esche già pronte quelle che utilizzo io sia le self quindi tutto il mondo self made da farine aromi a trattori in polvere liquidi oli essenziali dolcificanti quindi c'è tutta anche questa linea di prodotti pallarini fishing store è il primo negozio ad averla in italia ed infatti volevo ringraziare alessandro per avermi dato l'opportunità e la possibilità appunto di provare tra i primi questi questi tipi di di esche e anche ad avermi aiutato a scegliere la linea aromatica che è quella più consona alle acque che che frequento abitualmente anche perché è molto importante ragazzi non c'è l'esca miracolosa ma è molto importante saper scegliere l'esca giusta per la carpa naturalmente in base al tipo di fondale che andiamo ad affrontare al periodo e o alla temperatura dell'acqua e soprattutto imparare a conoscere un pochino le abitudini alimentari delle carpe come sapete io sono un affezionato a mainline alla linea in particolare spessi crab perché ho visto che nelle acque che frequento sono micidiali vanno molto molto bene e quindi è due settimane che sto testando in acque conosciute perché non ha senso provare queste queste esche nuove in zone che non sappiamo poi come risponde il pesce ma in questo caso so come risponde il pesce e sto testando quindi queste questa linea di esche con la linea di esche che già sto utilizzando in maniera tale che possa fare un confronto allora con alessandro alla fine ho scelto le boilers la serie triple r garlic che si chiama scusate ma che poi è questo tipo di prodotto qua triple r garlic ok ce l'ho fatta difficile praticamente sono una boilers a base di aglio e spezie quindi c'è robin red combinato con peperoncino in polvere c'è una buona dose quindi di aglio in polvere e altri componenti come la cipolla sempre in polvere e farina di pesce predigerita poi c'è qualche millimetro di olio essenziale all'aglio ecco questo tipo di esca mi sta dando delle soddisfazioni incredibili nel senso che sto prendendo con questa e non più con la main line ho pasturato 50 e 50 sto usando una canna con questa una canna con main line e un'altra canna con un'altra esca che per ora non vi posso non vi posso dire e ma al momento i risultati ce li ho solo esclusivamente su questa canna qua sarà la posizione sarà la fortuna sarà la fortuna del principiante però sta andando alla grande allora parlando un pochino di questa azienda qua quindi ripeto azienda olandese però di stampo praticamente di matrice inglese quindi come come può essere NutraBaits per intenderci ha a catalogo 10 formulazioni diverse di Boiless Readymade abbinate ai propri stick bag mix quindi avete già dei mix preparati per mettere nelle bombette ci sono i booster eccoli qua booster che questi vanno a dare praticamente sono liquidi attrattivi praticamente ideali per bagnare qualsiasi tipo di esca io ad esempio li utilizzo nell'ammollo per metterci poi qui dentro nella mia scatolina magica gli vado a mettere le bilanciate le affondanti e le pop up e quindi li ammollo in questo in questo modo qua poi oltre naturalmente a il booster troviamo le waffle cioè le bilanciate questo tipo di esca qui queste le fanno in 16 mm ma ci sono anche un pochino più grandine poi troviamo la linea pop up le pop up si chiamano i visual cioè sono da 14 mm e sono ultra visibili eccole qua questa ad esempio la linea garlic triple r garlic perché c'è anche un garlic normale è un rosa fluo molto molto visibile dimenticavo queste hookbait qua vaffer sono hookbait si chiamano hookbait perché sono anche un pochino indurite quindi permettono di resistere un po di più a pesci di disturbo e quindi non frantumarsi in due secondi poi naturalmente oltre a queste che cosa troviamo troviamo naturalmente pellets e poi anche naturalmente le boilers in questo caso sacchi da 20 mm da un chilo ci sono poi sacchi anche da sempre un chilo da 16 mm oltre a linee quelle un po più economiche troviamo anche il sacco da 5 kg e lì diventa molto interessante perché hanno dei costi molto bassi pur trattandosi di un'esca di altissima qualità quindi può essere conveniente anche per fare grandi pasturazioni al momento i risultati migliori li sto avendo con la vaffer la bilanciata la sto utilizzando singola su un amo del 2 al momento dei fan x della della nash con un terminale spinner ho preso anche però facendo un bello mino di neve con una 20 mm abbinata ad una pop up ad alta visibilità tutte quindi situazioni in questo caso bilanciate perché naturalmente anche il pesce un pochino più svogliato si ritrova a volte senza volere l'amo in bocca quindi ripeto mtc baits è un'azienda olandese la trovate sul sito di pagliarini fencing store così se volete eventualmente iniziare a sbirciare un pochino trovate praticamente tutta la linea lì che ci sono le varie spiegazioni ci sono tutte le linee le dieci linee quindi ho avuto proprio il piacere di vederle tutte dieci alessandro me la spiegate se avete poi delle domande in merito fatemele tranquillamente che poi se non so rispondere io le giro ad alessandro senza senza problemi per oggi è tutto vi ringrazio tantissimo per seguire il mio canale naturalmente se siete appassionati di car fishing iscrivetevi al canale attivate la campanella è molto semplice basta cliccare qui sotto così ogni venerdì sarete avvertiti di un nuovo video che esce ogni venerdì appunto alle 18 alla prossima ciao